c'è un nuovo attacco io non riuscirei a resistere quando escono così per me sarebbe la fine cioè sta usando un trapano cioè hai il trapano e mentre lo dicevo io stavo di non guardarlo, capito? secondo me era devastante grande, grande no, lei invece dietro ha un problema solo motorio oppure non sente il ritmo ciao, sono Robosex figo ma poco credibile ti va di fare l'amore con me? stata zitta, stronzo cominciamo un gran numero grande cinema muto non lo so, ci devono essere i cartelli sì sei venuta? non è venuta, stronzo brava penso che sia un robot arrestatelo arrestatelo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti